Durante un'escursione sulla neve in Val di Flares, nell'alta Valle Isarco, in Alto Adige, Alberto Franzoi, 34 anni, è stato travolto da una valanga. Dopo essere stato recuperato e trasportato all'ospedale di Bolzano, purtroppo ha perso la vita dopo il ricovero. Il fratello Marco, 36 anni, è fortunatamente rimasto illeso ed è stato colui che ha lanciato l'allarme. I due escursionisti originari di Rovereto, residenti a Trento, avevano iniziato la loro avventura nella mattina. Si trovavano a circa 3.000 metri sotto la cima delle pecore quando è avvenuto il distacco di neve. La chiamata ai soccorsi è stata effettuata poco dopo le 11.30. La chiamata ai soccorsi è stata effettuata poco dopo le 11.30. La chiamata ai soccorsi è stata effettuata più benvenuti il distacco coloro.